Casa della Solidarietà, un grande progetto. Umberto Carozzi, anzitutto quali sono le linee guida alle quali si è ispirato? Soprattutto la conservazione del significato che questo edificio ha avuto e ha ancora oggi riguardo il quartiere. Questo edificio era la palazzina civica, quindi il municipio di San Giovanni, poi la prima scuola elementare. Ancora oggi nei cittadini di San Giovanni rappresenta comunque il simbolo della comunità. Il progetto nasce da questa scelta. Abbiamo fatto un progetto conservativo, quindi conservando tutta la struttura originaria rendendo ben riconoscibili gli interventi necessari per adeguare l'impianto alle funzioni che avrà. Abbiamo voluto realizzare per esempio un grande atrio che diventerà un po' riferimento a disposizione per tutto il quartiere. Questo spazio sarà aperto ai cittadini, non solo agli anziani ma tutti i cittadini che vorranno fruirne e sarà il punto di incontro del volontariato e della realtà sociale di San Giovanni. La struttura è completamente in pietrame, abbiamo consolidato completamente tutto quanto, di fatto la copertura in legno lamellare, gli impianti saranno tecnologicamente tra i più evoluti e efficienti dal punto di vista energetico, come di fatti anche tutto il nostro tutto verrà trattata per garantire la massima coibenza termica. Lei ha ricordato comunque il legame con questo quartiere ed anche con la storia, questo è un edificio antico. Certo, è ancora conservata la scala storica di accesso al vecchio municipio dove c'è una lapide posata alla fine del 1800 con tutti i donatori, i cittadini che hanno donato e quella la memoria addirittura appartendo dal 1828 i benefattori che hanno donato alla comunità, alla scuola di San Giovanni. Noi vogliamo conservare, questa è stata la scelta dell'associazione e dell'amministrazione comunale, conservare la memoria anche conservando nell'uso sociale. Si passa chiaramente dall'istruzione al servizio della persona, però comunque la finalità è quella di una struttura al servizio del quartiere dell'intera città di Lecco. Come saranno organizzati e suddivisi gli spazi? Già ha detto di questo ampio spazio che sarà a disposizione della cittadinanza come luogo d'aggregazione. Ci sarà questo grande atrio, poi al piano terra ci saranno i servizi della persona dell'assessorato del Comune di Lecco, quindi un servizio civico. Al piano primo verrà ubicata l'associazione Hauser. Al secondo piano ci sarà l'associazione Anteas che ha pari finalità anche per sottolineare l'intento solidare tra queste associazioni che hanno voluto assieme contribuire a costruire questa realtà. Architetto, come stanno procedendo i lavori? Benissimo, praticamente finite le fasi strutturali. Sono iniziati i lavori degli impianti, quindi la parte pericolosa strutturale è finita, è completata. Adesso sono stati ordinati i serramenti, gli ascensori e quant'altro. Quindi diciamo che per l'estate è prevista la conclusione dei lavori. Grazie. 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 Grazie.